Non c'è niente da fare, Xiaomi è troppo avanti e pensa anche a chi sta tante ore al computer della tv ed è molto freddoloso. Indovinate un po', questo è uno scaldapiedi elettrico e fa anche qualcosa in più. Ovviamente va collegato all'alimentazione, si infilano i piedi dentro, e due. Si tiene premuto il tasto che si accende di rosso e come potete immaginare, beh, vi tiene i piedi al caldo. Se volete c'è anche questa funzione di vibrazione che però, boh, non lo so, vibra troppo leggero. No, questa la spengo, è quasi fastidiosa. Accessorio imperdibile per i freddolosi che stanno tanto al computer, lo si compra su Banggood e trovate il link su Smartword.